Quello che io faccio, ma sono un ricercatore, non è che devo farlo perché devo fare un disco, sono 15 anni che devo fare un disco più o meno, devo, lo dicono troppo i miei colleghi, sembra che sembra che il mondo non vede l'ora di avere quegli olo dischi che invece sono proprio i più rinunciabili, devo, sai non ci sono perché devo fare un disco, ma che devi, voglio fare un disco, perché di grazie alla Sony mi fa fare un disco, cioè ma il mondo non ha bisogno di certa musica sinceramente, il mondo nel senso, il mondo della musica, perché la musica ce l'ha M maiuscola e riguarda il mondo, grazie a sociック grazie a tutti grazie grazie... grazie 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 a tutti